Paolo Corazzoni, Trevi Meta, gli ascoltatori di Radio 24 Tempo nel complesso bello nelle prossime ore in diverse zone dell'Italia Vi segnalo solo un po' di instabilità nelle isole maggiori Nelle zone interne sarà possibile qualche locale temporale di calore ma di breve durata E poi anche un po' di nuvole al nord che però lasciano spazio a schiarite anche ampie Come temperature siamo nella... Grazie 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 Grazie